. Up Mets, risultati e programma Simone Bolelli spreca una ghiotta occasione. Accarezza il successo, poi ceda il tea break del terzo a Granollers. Non mancano sorprese nel martedì dei Mets, anche Richard Gasquet saluta prematuramente il torneo. Dopo l'esperienza challenger della scorsa settimana, il tennista transalpino inciampa con Iston Ming. Partenza perfetta, poi il graduale ritorno nel guscio. La Francia respira con Benoit Paire. . La settima testa di Serie batte un colpo con il giovanissimo Tsitsipas. Il talento greco si gioca la partita, ma cade in due, 62-64. . Almagro piega Beneteo su una superficie non sempre amica, Basilashvili rinviene su 1.800. Infine, da segnalare i successi di Gojovic, con Gombos, e di Maden, con Kicker. Risultati. . . Utsb, Denis Tomin de Feaz, 6, fra, Richard Gasquet 16 64 64 7, fra, Benoit Paire de Feaz, cu, Gre, Stefano Stzitsipas 62 64. . 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 8. LL, Ger, Yannick Madden De Feaz, Arb, Nicola Kicker 64 36 63. 4 le partite in programma in data odierna. Dustin Brown, presente a me grazie ad una bid card, trova Maut, altro invitato al Moselle Open. . Maut proviene da un ottimo torneo a Flushing e a Doves. Qualificazioni e terzo turno, qui può recitare una parte importante. L'incrocio tra M.Vere e Werbert è il più atteso. Tre partite nel 2016, 2-1 per il tennista di casa. . . Fermato da Querrey a New York, il tedesco può imporsi. . 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